Cosa succede nelle diverse sedi della tua azienda? Pensi mai che l'esperienza di lavoro delle persone nelle vostre diverse sedi non sia coerente con la brand identity che diffondete all'esterno? Hai mai la sensazione che alcune informazioni o alcuni stati d'animo delle persone nelle sedi più lontane non arrivino alla direzione o alla funzione HR? Lo sappiamo. Quando un'azienda ha molte sedi sul territorio, magari frutto di diverse acquisizioni fatte nel corso degli anni, può capitare che ogni realtà mantenga una certa autonomia attraverso i propri manager storici, attraverso quelle che ormai sono procedure consolidate ed una cultura ormai radicata. Lo sai che esiste uno strumento per aiutarti a capire se questo accade anche nella tua azienda? È il nostro Eleva People Value, un'analisi di clima con cui puoi comprendere qual è l'esperienza delle persone nelle diverse sedi, individuare meglio le difficoltà di ogni sede, ad esempio mappando la differenza tra uffici e sito produttivo. Sono tanti i clienti che come te adesso si trovano in questa situazione e ora grazie alle nostre analisi di clima hanno trovato le risposte che cercavano. E tu cosa aspetti ancora?